A 48 ore dal voto termina lo spoglio delle 56 sezioni di Caltanissetta. Alle urne si è espresso solo il 48,26% degli elettori, con il tasso di assenzionismo del 51,74%, tuttavia in linea con il resto dell'isola. Premiato il futuro governatore della Sicilia, Renato Schifani, con il 35,94% dei voti nella coalizione del centrodestra, seguito dal 22,95% di De Luca con Chiamanord, 21,27% di voti a Nuccio di Paola del Movimento 5 Stelle, 17,92% di voti a Caterina Chinnici del PD, 1,43% di voti per Armavo Azione Italia Viva e 0,49% degli anni esposito di Siciliani Liberi. A Lars da Caltanissetta entreranno come deputati a Palazzo dei Normanni a Palermo il Nisseno Michele Mancuso di Forza Italia, riconfermato anche in questa tornata elettorale. Il gelese Nuccio di Paola del Movimento 5 Stelle sarà deputato, sebbene sconfitto, come governatore, e Giuseppe Catania con Fratelli d'Italia, ex sindaco di Mossomeli. Tra Montecitorio e Palazzo Madama, a Roma il centrodestra, vincendo porta 14 dei 18 collegi. La lista di De Luca guadagna un posto alla Camera e uno al Senato. Il Movimento 5 Stelle vede due seggi uninominali di Palermo, di Davide Aiello e Dolores Bevilacqua. Sconfitta in quota di maio l'ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, visto il mancato raggiungimento del quorum. Invece sarà in Senato nell'Omusumeci l'ex governatore dell'Isola. In Parlamento ci saranno Michela Brambrilla, Marta Fascina, compagna di Berlusconi, Stefania Craxi, l'agrigentino Pisano. Grazie. Grazie.